Elezioni regionali in Sicilia, una situazione per la Presidenza o per i candidati Presidenti sempre più confusa. Sembra rivelarsi azzeccata la scelta di Cateno De Luca di correre al di fuori degli schieramenti. Beh, guardi, a destra e a sinistra c'è il caos. Non si sa se la Chienici si ritira, non si sa se il centrodestra prenderà qualcuno di Forza Italia, qualcuno della Lega. C'è solo una persona che è candidata unica e certa già da molti mesi. Si chiama Cateno De Luca. Sta facendo una campagna elettorale forte, è una persona piena di energie ma soprattutto piena di idee. De Luca ha dimostrato di essere un buon amministratore nei tre comuni, unico italiano al momento vivente che è stato eletto in tre comuni diversi, che ha amministrato bene. A proposito di amministrare bene, quale potrebbe essere la vostra forza qualora questo progetto dovesse andare a buon fine? Il candidare, i sindaci, gli ex sindaci, i consiglieri comunali, gli ex consiglieri comunali che non hanno fatto male è una forza perché sono quelli che sono all'interno della macchina amministrativa. Noi per governare la Sicilia abbiamo bisogno di intellettuali e di filosofi, ma pochi intellettuali, pochi filosofi e molti amministratori perché è una terra, perché è una regione che ha delle potenzialità enormi che per un motivo o per un altro non si sfruttano. Quindi amministratori, gente che conosce la macchina e soprattutto gente che conosce i bisogni delle persone. E infine a proposito dei bisogni delle persone, come questo nuovo contesto riguardo quello della Lega che lei ha frequentato negli scorsi anni si propone verso la gente? Io la Lega l'ho frequentata fino a quando era una forza di scardinamento dei vecchi sistemi politici brutti in Sicilia. Quando siamo diventati una fotocopia sbietita di Forza Italia l'ho abbandonata. Se noi ci mettiamo attorno a un tavolo e facciamo un programma insieme alle persone, perché poi ripeto non ci vogliono grandi filosofie, abbiamo bisogno di strade, abbiamo bisogno di posti di lavoro, abbiamo bisogno di qualcosa che faccia uscire degli ospedali, che faccia uscire la Sicilia dagli ultimi posti di tutte le classifiche di qualità della vita d'Europa e questo l'ha fatto il centrodestra e il centrosinistra. Quindi o votate centrodestra o votate centrosinistra, sempre ci hanno affossato, quindi è il momento di cambiare.